Aveva contratto la legionellosi, sembra, in vacanza al mare. Dopo 12 giorni di agonia è venuta a mancare purtroppo la donna, moglie di un imprenditore, con due bambini, proprio qui alla clinica Fornaca di Sessan. Clinica che ha fatto sapere con una nota stampa di come la donna si trovasse in condizioni già critiche al momento del ricovero e si è andata poi aggravandosi fino all'edeccesso avvenuto giovedì scorso. La donna, 61 anni, ha iniziato ad avvertire sintomi della malattia al ritorno a casa a Torino, ma sembra che il virus sia stato contratto in Costa Azzurra, dove la famiglia possiede una casa. Aggravatasi rapidamente, la donna è rimasta ricoverata in clinica 12 giorni. Alla fine, nonostante i costanti tentativi dei medici, non ce l'ha fatta, lascia il marito e due figlie. È il sesto caso di morte per legionellosi nel Nord Italia in quest'estate 2018, mentre in totale i contagi sono oggi 53. In Piemonte aveva fatto scalpore la morte ai primi di agosto di un operaio di Bra che lavorava all'Amiat di Torino. L'uomo si era sentito male sul luogo del lavoro e aveva portato la parziale chiusura del centro Amiat per molti giorni. Più recente, la chiusura di un bagno della Dental School di Torino, dove i tecnici Spresal dell'Asl avevano ravvisato il rischio legionella, caso poi rientrato. Il Servizio regionale di controllo delle malattie infettive ha escluso categoricamente ogni ipotesi di epidemia. In Piemonte, come in Italia e in Europa, la malattia a bassa incidenza, hanno precisato, le persone colpite sono circa 2,5 su 100 mila. I casi sono sporadici e prevalentemente in estate. Negli ultimi anni sono aumentati i casi di legionellosi contratte in viaggio, soprattutto per persone over 65. Allo scopo di prevenire la malattia, che si trasmette con l'acqua e il vapore acqueo a una temperatura tra i 25 e i 55 gradi, è necessario dunque, sempre secondo il Servizio regionale, investire in indagini epidemiologiche per capire le fonti di esposizione della malattia. e nelle attività di controllo e sorveglianza condotte dal Dipartimento di Prevenzione delle ASL.